Quest'anno alla Fiera Klima House presentiamo come novità una nuova membrana traspirante per la copertura, per il manto sottotegola, che si chiama USB Protector Head FH200, con delle caratteristiche particolarmente legate alla durabilità del prodotto, contenente infatti un film poliuretanico monolitico elastico ad alta resistenza ai raggi UV e alle alte temperature, nonché un miglioramento dei tessuti superficiali attraverso una componente che li rende maggiormente resistenti alla propagazione della fiamma in caso di fiamme o scintille che arrivano dall'esterno.